Vibrazione successiva Entrammo nel salotto dell'appartamento. Era di un'eleganza squisita, arredato con mobili che erano autentici pezzi d'antiquariato. Su una console dalle gambe delicate e curviline stavano bottiglie di liquore. Nell'angolo in fondo una porta semiaperta lasciava intravedere la meraviglia della camera da letto. Gennaro, il ricco padrone di casa, mi presentò a Dennis, l'americano, in maniera piuttosto sbrigativa. Dennis, questo è il mio più caro amico. Dennis posò lo zaino sul tappeto e si sedette. Gennaro ci indicò i liquori. Bevete qualcosa? L'americano non aveva intenzione di bere alcol alle undici. Sì, grazie, disse, un caffè. Gennaro gli rivolse un'occhiata incuriosita, poi disse A mano a mano che l'America perde potere a favore della Cina, gli americani diventano sempre più europei. Non solo, disse Dennis, a mano a mano che la nostra umanità comprende, le nazioni che non hanno più grande influenza daranno spazio alla vibrazione successiva, quella dell'Islam, che è l'umanità che succederà alla nostra. Guardai Dennis sorpreso per quello che aveva detto in perfetto italiano. Questo avverrà per l'allacciamento tra i sentire, tra le coscienze che si uniranno per formare tra molte migliaia di anni la trama del tappeto coscienziale e continuerà fino a quando il tappeto sarà tutto scritto e la materia coscienziale sarà una sola e le varie umanità saranno un unico individuo. Per un momento nel salotto scese il silenzio. La faccia intensa di Gennaro era sorpresa da quello che aveva detto Dennis. Io cercai di simulare una indifferenza che non provavo. Temevo che ciò che aveva detto Dennis potesse minare la mia fede di ateo antico. E i ricchi come me che fine faranno? Chiese Gennaro. Continua.